Il vino Toscana è la ribalta internazionale in occasione della due giorni di Buy One alla fortezza da basso di Firenze con 5.000 incontri tra produttori vitivinicoli e buyer da tutto il mondo, un'occasione importante per i maggiori brand del nettare di bacco. Se si pensa che il fatturato dei 16 consorsi di tutela del vino Toscana ha sfondato nel 2016 la quota di un miliardo di euro, un risultato che testimonia come la strada presa dalla Toscana sia quella giusta. Le produzioni locali d'eccellenza, riconosciute e riconoscibili e tracciabili, sono ancora una volta premiate dai compratori esteri che apprezzano sempre di più i frutti del paniere dell'enogastronomia toscana, a partire proprio dal vino. La qualità paga nel contesto internazionale, paga tanto di più, chiaramente un prodotto di grande eccellenza come il vino. Per il terzo anno consecutivo, numeri in crescita per quello che riguarda l'export sulle doc e le DOCG. I 16 consorsi da soli a livello regionale rappresentano ben oltre il miliardo di euro di fatturato e l'altro aspetto decisamente positivo è che questo settore, in un momento di crisi occupazionale, negli ultimi dieci anni ha occupato il 5% in più, 25.700 dipendenti. Questo la dice lunga su quanto il vino possa essere motore di sviluppo per la Toscana e per l'Italia in generale. E per la prima volta, proprio all'interno di By One, organizzata da Regione Toscana e Promo Firenze, si sono presentate al mondo anche le anteprime di Toscana 2017, con la presenza di tutti i consorsi di tutela, dal Chianti Classico fino a Vernaccio di San Gimignano, Morellino di Scansano e Brunello di Montalcino, consorsi che oggi guardano con sempre maggiore interesse i mercati internazionali, a partire da quelli asiatici. L'Asia è una nuova porta per i vini toscani, una grande opportunità che in parte è già stata aperta. Siamo presenti su questi mercati con i nostri consorsi già da anni. Sono mercati non facili dove dobbiamo lavorare molto, anche perché dobbiamo capire che lì c'è bisogno di fare cultura e conoscenza dei vini. E' come tornare indietro 30 anni fa in America, quando ci siamo affacciati su quel mercato e abbiamo costruito quello che oggi stiamo raccogliendo. Dobbiamo fare lo stesso per l'Asia. Proprio riguardo al mercato americano, ecco che gli Stati Uniti sono ancora una volta il paese che acquista maggiormente i vini toscani. Qui l'export vale 139 milioni di euro, una fetta importante per l'economia del vino. Certo che il protezionismo sul quale vorrebbe fondare le proprie politiche Trump un po' potrebbe impensirire i produttori, anche se dietro gli allarmi lanciati nei giorni scorsi anche da Coldiretti c'è chi non si preoccupa troppo. Io credo che gli Stati Uniti sono un mercato ormai talmente consolidato per il vino in generale e per il vino italiano in particolare, che si è fatto veramente una posizione estremamente solida in tutti questi anni. Per cui io credo che anche se dovesse esserci qualche leggera cambiamento nella politica o tarifaria, doganale, protezionistica o quant'altro, però io non credo che i nostri vini ne potrebbero subire un danno consistente. L'incontro di oggi sull'anteprima di Toscana ed anche ufficialmente il via le presentazioni di singoli consorzi ad aprire le danze sarà domenica 12 febbraio alla Fortezza da Basi, il Consorzio del Chianti, seguito dalla due giorni di Chianti Classico Collection in programma il 13 e 14 febbraio alla stazione Lopolda di Firenze. Mercoledì 15 sarà la volta dell'anteprima della Vernaccia a San Gimignano, mentre il giorno successivo protagonista a Montepulciano sarà il Nobile. A chiudere le anteprime il Consorzio del Brunello con una due giorni a Montalcino il 17 e 18 febbraio.